hola a todos io sono cronox ben ritrovati nel mio canale come sempre nel primo commento vi lascio il link al giveaway che del tutto gratis quindi mi raccomando partecipate che a tot partecipanti vi farò vedere il vincitore in più vi ricordo che nel primo link in descrizione trovate quello per donare nel caso vogliate supportare il cronox nazionale ma adesso passiamo subito in game eccoci qua cari miei sempre in ospedale abbandonato per fortuna perché l'altra mappa mi piace di meno rispetto a questa e vediamo di vincere allora vediamo se troviamo un'armetta un sigillo qualcosina di utile e poi andiamo a cercare incenso e chiodo pugnale quel che è questa è utile in endgame infatti mi sa che la butto qua al centro ma perché mi spotta io questo non capisco quando lancio un oggetto per terra mi spotta il killer questo pure è utile in endgame veri mi spotta il killer con F questo devo mettere un tasto diverso questo è utile qua c'è una siringa che facciamo così mettiamo al centro sopra così non dimentichiamo dov'è allora non vedo rituali da nessuna parte c'è scatole rituale da nessuna parte in compenso però c'è questo eccola vai vediamo cosa esce di buono vincenzo nice cerchiamo di metterlo hanno già attivato rituale nel senso si può pregare bravi io mi occupo di questo aspetta ma non è che ha quittato il killer perché ormai ho brutte esperienze cioè brutta esperienze in modo di dire è divertente quando il killer rage quit però se non lo incontri almeno una volta non te lo fa vedere nella schermata quindi non lo so se se c'è dobbiamo un attimo capire se vediamo qualcuno ferito questo questo lo mettiamo qua mi sembra strano non sento movimenti non è che ha quittato ah no no non ha quittato lo sento lo sento lo sento stannato c'è ancora qua via trovare un punto per lanciarmi giù ok vai e apriamo qui io c'ho il perk che mi lancio giù e non prendo danno ogni 60 secondi la posso attivare questo perk incenso beh se troviamo il rituale perché no oh l'hanno trovato bravissimi la vengo a piazzare se non vengo inseguito è proprio qua davanti vi dovete mettere quei due ok via vediamo se me lo fa piazzare sembra brava l'altra jane oh bravissimi hanno fatto un rituale molto molto bene avevo visto il pugnale ah merda jane è passata miglior vita povera jane ok piazziamo un attimo questo mi approfitto per andarlo a prendere visto che quello è inseguito arrivo dove è il buddha? lì qua ok ti salvo io il culetto ecco fatto se trovassimo un altro pugnale sarebbe un'ottima cosa richiamiamo l'ascensore qua posso e preghiamo no è morto il tipo non ne occupate voi raga vabbè vedo uno ferito spero vada jane allora vero jane che ci vai tu? jane ci devo andare io dai ho capito attenta jane vai ti raccolgo io caro ho cercato di aiutare jane avete visto? ho bloccato la porta più di così non potevo fare dai in tre ottimo forza 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 perfetto andiamo a fare l'altro signori ok ho trovato ci stiamo messi molto bene stiamo messi appena ho parlato ragazzi non lo dirò più forza 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 jane e l'altro sono in difficoltà merda se muoiono è definitiva come cosa e finiamo subito così si curano forza forza ok curati perfetto vogliono tutti quanti fightarlo ottimo ma dov'è? dovete spottare dov'è però ok qua ahia ahia presa e una volta ci posso pure morire tanto mi sono mai stato abbattuto no la trappala vabbè la mettiamo qua jane se n'è andata però jane se n'è andata però e vabbè raga però non si prende questa ne devo andare per forza se non muoio ne devo andare per forza se non muoio chiudi la porta chiudi la porta chiudi la porta se trovasse una cazzo di siringa sarebbe top me ne devo andare io raga mi dispiace ma va a finire ma va a finire io ci muoio avessi trovato una siringa continuavo pure ma chissà quanta vita c'ha perchè comunque l'abbiamo presa un sacco di volte eh ma questo schiatta uuuu bravissimi bravissimi signori dai io ho contribuito comunque ad esorcizzarlo mi ha dato un bel po' di acqua santa in faccia eh spettro esorcizzato ho contribuito non si può dire che ho fatto la più si che scappava subito eh infatti guarda 660 punti ho fatto ho fatto più punti del killer eh eh comunque ottima partita signori cari gg